Cari fratelli e sorelle vicine e lontane, pace bene a tutti, seconda domenica di quaresima, Luca 9, 28-36. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano appressi dal sonno, ma quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù, Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva, questi e il figlio mio le letto, ascoltatelo. Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Mettiamo un titolo che è la chiave di lettura del Barano, trasformati in Cristo. Diciamo che nessuna esperienza cristiana non è autentica, se non attraverso l'ascolto della parola di Gesù e la preghiera fatta con fede. La sua parola ti apre la strada all'alleanza con Dio, con i fratelli, quindi alla comunione con Lui. La preghiera ti fa crescere nella fede così che tu possa camminare con la sua promessa per i sentieri dell'esistenza che non sono mai facili. Non sono autostrade, sono sentieri tortuose. La parola è la luce che illumina la strada verso il Padre. Non ti fa sbagliare strada. La preghiera la conferma che metti la tua esistenza sulla via di salvezza. C'è bisogno di corrispondenza tra parole e preghiera, tra vangeno e vita, perché ognuno di noi sarà chiamato a donare definitivamente la propria vita. Possiamo farlo nella speranza o nella disperazione. Questo dipende da noi, cioè da come avremo o abbiamo cura della nostra vita. Ma su tutti è presente sempre la misericordia di Dio e non solo perché questo è l'anno della misericordia. Pace e bene a tutti.